Davide, seconda stagione di Rosso Azzurro, con che auspicio comincia? Ma con grande entusiasmo, con grande forza e spero che sia una stagione piena di soddisfazioni per me e per il Catania. Cosa prendi e cosa lasci della passata stagione? Ma prendo quegli episodi positivi che sono avvenuti, anche se non ho avuto tanta continuità e lascio magari quelle meno positive, ma non di fatto recampo, nel senso di ruolo non mio, quello preferisco non parlarne, ma voglio dimostrare continuità in questa squadra perché lo voglio con tutte le mie forze. Tra le cose positive c'è sicuramente l'affetto del gruppo. Sì, questo sì, ne ho parlato prima, è un grandissimo gruppo questo, penso che faccia la differenza, l'anno scorso l'ha fatta e credo che continuerà a farla perché oltre ad essere una grande squadra a livello proprio di giocatori e di costruire un gioco, noi siamo un grande gruppo fuori dal campo. Questo penso lo si veda e non è assolutamente vero, gli argentini e gli italiani sono due gruppi differenti, anzi c'è molta coesione. Proviamo a fissare un obiettivo per questa stagione. Ma l'obiettivo, come ho detto prima, il mio personale preferisco tenermelo per me per un fattore scaramantico e non. E per quanto riguarda la squadra ripetere la stagione se non migliorarla e cercare di finire la stagione molto molto meglio di come l'abbiamo finita l'anno scorso perché inconsciamente abbiamo lasciato qualcosa. Se non dovessi trovare spazio chiederai di andare via oppure vuoi giocarti le tue carte qui? No, io ho deciso, se la società non mi caccia ho deciso di rimanere e di giocarmi le mie carte con continuità, se questo la società mi darà occasione di dimostrarlo. Io sono il primo ad essere contento, io qua ho tre anni di contratto e voglio rispettarlo.